Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Peppe Aurna Oggi siamo a The Warner Cospirati Ora vi farò vedere il primo livello Speriamo che il video vi piaccia E incominciamo subito Iniziamo Vabbè partiamo i filmati perché non mi piacciono molto E allora, se vi fanno i nostri filmi, non vi aggiornerò In comitato Un po' di carica Allora Un po' di carica Un po' di carica Un po' di carica Sarebbe cercato di fare più fuori, guarda che si deve tornare del mare. Grazie. 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 Ora dentro. Grazie. 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 Bene, con questo episodio è tutto ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.